Tutti insieme per discutere ed analizzare le problematiche del commercio salernitano che deve fronteggiare la crisi economica che da anni attanaglia il nostro paese. Così molti associazioni di categoria hanno raccolto l'invito della CEPI UCI con l'obiettivo di dare vita ad un progetto condiviso in grado di dare risposte certe e concrete ai piccoli e medi imprenditori salernitani, coloro cioè che investono risorse economiche nelle attività commerciali presenti sul territorio. L'incontro è servito anche per presentare la Federazione Nazionale Commercio e Turismo preseduta da Claudio Pisapia. Noi cerchiamo di affrontarlo dalla base cercando di coinvolgere soprattutto chi del negozio ha i problemi e subisce le conseguenze maggiori nel bene ma soprattutto in questo momento nel male perché oggi la difficoltà grande è proprio quella di avere problemi e nel chiuso del proprio negozio cercare di risolverli da soli pensando magari tutte le stesse cose ma non avendo la possibilità di confrontarsi e di affrontare i problemi e sottoporli a chi di dovere o chi dovrebbe risolverli. I presenti sono praticamente dei rappresentanti di federazioni, chi effettivamente ha i problemi e vuole provare ad affrontarli, risolverli è una parola un po' grande, sicuramente provare quantomeno a parlarne e sottoporli a chi di dovere. Il nostro obiettivo è quello di cercare di combattare intorno ad un progetto, ad essere propositivi intorno ad un progetto che faccia rendere conto ai commercianti salernitano quanto sia importante fare delle proposte serie che possano, se non risolvere tutto ma almeno in parte quelle che sono le problematiche che dobbiamo affrontare tutti i giorni noi commercianti. Certamente troveremo delle difficoltà perché a Salerno si è radicata un'idea che il commercio venga, le associazioni di categoria vengono gestite da persone che troppo spesso non conoscono i veri problemi dei commercianti, troppo spesso non sono commercianti e ciò deve essere superato. I commercianti devono comprendere che devono essere loro protagonisti della vita commerciale della città con delle proposte e delle idee che diano una svolta finalmente a un settore che troppo spesso viene emarginato e viene a volte visto addirittura come colpevole di qualche cosa che poi infine ricade sui commercianti stessi.